Il tuo nome, da dove vieni e per quale pizzeria lavori? Sì, allora io mi chiamo Nino Petrullo, vengo dalla Campania e non lavoro in pizzeria perché abbiamo un piccolo servizio di catering io e mio fratello e quindi ci dilettiamo così a fare un po' di feste private, catering e poi vari extra nella zona dove abito. Comunque le pizze le fai? Sì, 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 sì. Sempre, perché ormai è una passione che non riesco a stare senza, sono da tanti anni, quindi è come una droga, non ne riesco più a far meno. Che pizza hai presentato a questa giuria? Eh niente, ho presentato una pizza abbastanza semplice e fresca, ho scelto questa pizza anche perché ho pensato anche all'aspetto un po' igienico, insomma, del tutto, anche perché venendo da lontano, quindi lo scambio di temperatura degli ingredienti avrebbe potuto giocare un brutto ruolo. Quindi ho scelto tutta roba fresca, ho preparato qua a momento, ho ingredienti confezionati che ho aperto qui a momento, così anche la salubrità della pizza, insomma, è migliore. E quindi com'era questa pizza? Eh niente, era una base focaccia con pomodori tagliate a rondelle, olive verdi, olive nere, pinoli e conditi un paio d'ore fa così, in modo che venisse un carpaccio e si rendesse tutto il sapore. Condita poi con del limone, succo di menta e basilico e nient'altro. Grazie. A voi, grazie a voi, arrivederci.